In un piccolo villaggio assolato della Mancia, all'improvviso, il cielo si oscurò. Quello non è solo un temporale, è un gigantesco mostro tempestoso! Amici, andiamo! Venite con me nel bosco! Sconfiggeremo il mostro e difenderemo la nostra città! Pronti? Pronti! Aspettatemi! Anche la faccia a me! Pronti! Il drago sta arrivando! Nanna, non puoi prenderci! Inseguili! Arriviamo! Alla prossima! Autore dei sovrapposti